Un anno fa ho deciso di iniziare a collaborare con Rossini TV in quanto ritenevo che questa nuova realtà locale imprenditoriale che stava nascendo aveva delle ottime opportunità di sviluppo visto che a Pesaro comunque erano anni che non si vedevano a tv locale ho deciso di partire con un piccolo investimento che poi nel tempo è cresciuto. L'idea che abbiamo avuto insieme al titolare di Rossini TV era quella di fare un format fatto di alcune puntate che parlavano di alcuni argomenti assicurativi. L'obiettivo era quello di spiegare alla gente in maniera semplice e efficace alcuni aspetti delle assicurazioni, dei casi pratici e quant'altro. Abbiamo notato che il programma man mano che andava in onda riscontrava sempre più interesse e non solo i miei clienti l'hanno visto e quindi si sono congratulati con noi per l'iniziativa ma abbiamo anche ottenuto tantissimi contatti da altre persone che vedendo il programma si sono rivolte qui in agenzia a chiederci informazioni. Quindi ritengo che continuerò a lavorare con Rossini TV, che l'investimento è stato sicuramente un buon investimento e quindi voglio condividere con voi questa mia esperienza e penso che possa essere utile a tutti voi per poter promuovere la vostra attività soprattutto qui nel territorio pesarese. Assifabri opera nel campo assicurativo da oltre 80 anni con l'obiettivo di offrire il miglior servizio e la serenità per una vita senza pensieri. Assifabri, soddisfazione assicurata. Grazie per la visione! Grazie!